Richard Kimbry, professione veterinario, ingiustamente accusato di aver spazzolato contro pelo 85 gatti, solo Michael sa della sua innocenza. Per sfuggire all'ispettore Malliga dovrà cambiare professione. O i connotati. Oppure basterà cambiare il nome. Kimbry continua a nascondersi. La sua vita ormai è una fuga perenne. Insomma, la vuoi smettere di riparti le unghie sulla moquette? La prossima volta che Teresa mi chiederà di tenerti con me non farò la sciocchezza di accettare. Dove credi di scappare? Vieni qui! Un'altra volta sulla moquette, ma quando ti deciderai a farla finita? La smetta di maltrattare quel gatto. I gatti vanno presi con le buone, in particolare Michael, che è un gatto molto sensibile e delicato. Lei chi è? Che ci fa in casa mia? No, non urli, la prego. Sono solo di passaggio, me ne andrò subito. Ma se ne vada subito da casa mia fuori? Sono un amico di Michael, diciamo un suo ammiratore. Sì, ma le sembra questo il modo di entrare in casa d'altri? Già, forse sono stato un po' troppo brusco, mi perdoni. Avevo dito il mio agolio di Michael e la curiosità di rivederlo mi ha fatto perdere il lume della ragione. E lei mi deve scusare. È bene, è scusato. Sento dei passi. Devo nascondermi immediatamente. Vengo! Mi scusi se la disturbo. Sto cercando un uomo, ne ho perso le tracce vicino a casa sua. L'ha visto per caso, è alto e slanciato. E come si chiama? Richard Kimbry, è un uomo ricercato dalle polizie di tutti gli stati. Che brutto pelo. Che cosa ci fai qui, Michael? Su da bravo a nanna. Va bene, ora devo andare. Scusi il disturbo, signora. Meno male, stavolta l'ho scampata bella. Non si può mai giocare. Visto gliel'avevo detto che Michael è un gatto sensibile, è offeso perché lei lo ha maltrattato. Forse ha ragione, starò più attenta. E adesso che c'è che gli prende? Quando Michael si arrabbia, rischia di scoppiare. E adesso come faccio? Teresa mi sgriderà se le faccio scoppiare il gatto. Ma no, non si preoccupi, lo distrerò io con un giochino, così si calma senza scoppiare. Lo farebbe davvero? Ma certo, stia a guardare, si tratta di un gioco semplice. Michael, vieni che ci divertiamo un po'. Qui, 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 su, qui, qui, qui. Non so cos'è, ma la seguo. Funziona, Michael si sta divertendo come un matto. Adesso guardi, glielo faccio rifare, eh. Qua, Michael, tu. Ancora questo. E' qua. Ma come? Era qui. Ora è tardi, devo andare. Un giorno ritornerò a trovare Michael. Il dottor Kimbry corre solitario nella notte, costretto alla fuga dall'astuto Mulligan. Riuscirà mai a provare la sua innocenza.